Una finestra affacciata sul futuro con il 2030 all'orizzonte. Come sarà il mondo in quell'anno? Come si lavorerà? Che aspetto avranno gli spazi? Domande che cercano risposte in relazione alle tipologie di transizioni da affrontare. Ad esempio, verrà trovato un equilibrio fra essere sostenibili e produttivi. L'obiettivo del convegno Shape Your Vision, organizzato dal gruppo E, è fornire più elementi possibili per interpretare il domani e arrivarci preparati. Infrastrutture, cyber security e transizione digitale sono i temi centrali dell'appuntamento con un obiettivo da raggiungere, superare lo scetticismo sulla tecnologia e sfruttarla come motore che però dovrà sempre essere gestito dall'uomo. Riteniamo molto importante tutta una serie di temi di frontiera, ovviamente tecnologici. La tecnologia ci sarà, continua ad esserci pervasiva. Faremo molto affidamento sempre di più sull'intelligenza artificiale, dove però l'uomo dovrà sempre avere il pallino, il controllo della situazione e sicuramente un tema che sta emergendo tantissimo, a cui noi teniamo tanto, è tutto il tema della sostenibilità, inteso come sostenibilità per le aziende, per migliorare tutti i loro processi e per dare davvero un sapore di futuro a questo gruppo di lavoro.